Carissimi, uso questa modalità per salutare a viva voce ciascuno di voi, perché il prossimo 30 settembre sarà l'ultimo giorno della mia direzione in Emilbanca. È giunto anche per me il tempo del pensionamento. Ammetto che non è facile lasciare un'azienda che ho amato e che ho contribuito a fare crescere negli anni, ma è arrivato il momento di passare il testimone. Sono entrato nel mondo delle casse rurali 41 anni fa, settimo dipendente della casse rurale di Monzuno, di cui mio padre anni prima ne era stato unico dipendente. Una banca monosportello e con poche centinaia di clienti. Ora Emilbanca dà lavoro a 738 collaboratori ed opera con 55.000 soci e 185.000 clienti in sei province dell'Emilia-Romagna più una Lombarda. Una crescita quindi molto forte, realizzata anche con integrazioni di altri BCC. Trenta dei 41 anni lavorati li ho vissuti come direttore generale e questo mi ha permesso di vivere la storia recente del credito cooperativo, con i suoi fortissimi cambiamenti sia di mercato che normativi. Una storia che considero straordinaria perché mi ha fatto incontrare persone straordinarie, soci, clienti, amministratori e collaboratori. Oggi ho la serenità di passare a persone altrettanto appassionate il timone di un'azienda un'azienda sana, produttiva, dinamica, fortemente proiettata nel futuro, pronta ad affrontare le innumerevoli sfide che il mercato richiede. Un'azienda che opera con collaboratori motivati e di grande qualità e amministratori consapevoli del ruolo molto importante che ricoprono. Nel mio lavoro, in coerenza con i nostri obiettivi statutari, ho sempre cercato di operare onestamente e per il bene comune. Credo di poter dire con orgoglio che insieme abbiamo contribuito a rendere il nostro territorio un po' migliore. In chiusura, desidero ringraziare tutti voi per la collaborazione e la fiducia che mi avete sempre riservato, così come desidero esprimere grande riconoscenza ai tanti colleghi che oggi come ieri e certo come domani daranno del loro meglio per la nostra azienda. Una squadra della quale sono sempre stato orgoglioso. Un saluto particolare voglio riservarlo all'ex Presidente Graziano Massa, persona discreta, coerente ed anche generosa. Formulo poi un augurio sincero al nuovo Presidente, Gianluca Galletti, e ai colleghi che guideranno nei prossimi anni la nostra banca, Gianluca Pavan, come Vice Direttore, e Matteo Passini, prossimo Direttore Generale. Ho la certezza che Emil Banca è e resterà una grande banca di credito cooperativo. Un caro saluto a tutti voi.